Il 29 settembre è stato trasmesso ufficialmente in America l'ultimo episodio dei Simpsons. Non sto scherzando, dopo più di 35 anni la serie più famosa al mondo è finita. Ormai si parla da svariati anni di una possibile conclusione per questa serie, persino io qualche anno fa ho fatto un video a riguardo. Si pensava ad un ultimo episodio di Natale per chiudere un po' il cerchio, visto che il primo episodio della serie è uno speciale natalizio. Si pensava pure ad un altro film, un secondo film per il cinema per chiudere la serie. O ancora ad un episodio in cui questa volta la cosa succedeva realmente, i personaggi andavano avanti con l'età. E invece no, l'ultimo episodio dei Simpsons si chiama il compleanno di Bart. E in realtà inizia come un qualsiasi episodio dei Simpsons, molto soft e tranquillo, un po' quotidiano. Bart deve festeggiare il proprio compleanno e lo stesso giorno si accorge che Homer non ha ancora distribuito gli inviti. Così decide di farlo lui stesso partendo dai suoi compagni. E qui c'è già il primo sentore di chiusura definitiva. Infatti il preside Skinner va in pensione e si trasferirà con Willie il giardiniere in una scuola di sacramento. Tra l'altro ad un certo punto sembra che ci sia in mente di fare uno spin-off sui due personaggi in questa scuola. Non lo so, loro come protagonisti non ce li vedo tantissimo. Ehm, ok. Anche Bart è un po' confuso. Si passa alla centrale nucleare di Springfield dove Smithers annuncia ai dipendenti che il signor Barnes sfortunatamente è deceduto. E con accanto l'avvocato dai capelli blu rivelano che tutto il patrimone del vecchio andrà diviso tra i dipende... Ah no. Scherzone. Il signor Barnes è ancora vivo ed è pronto... Ah no. Il testamento è comunque ufficiale, quindi ogni dipendente si becca a parte del patrimonio miliardario. Bart tra l'altro vede la scena dall'esterno della centrale prima di arrivare in fumetteria, dove trova l'uomo dei fumetti e Kumiko in panico perché quest'ultima sta per partorire. Dall'oggi al domani, così, e sorpresa delle sorprese, entra John Cena ed è lui a far uscire il figlio dell'uomo dei fumetti di Kumiko. Adesso ha una nuova vita, quindi anche la fumetteria chiude. Bart, disperato, va dal suo migliore amico, ma anche qui i genitori di Milaos, Mussolini e Van Houten irrompono informando il figlio del loro imminente trasferimento ad Atlanta. Milaos quindi lascia il suo amico Bart da solo, attendendo tra l'altro il suo glow up togliendo gli occhiali. No. Ma che sta succedendo? Grazie a Bart che si fa un po' il giro della città, vediamo uno scorcio della Springfield secondaria, se vogliamo chiamarla così. Personaggi come Duffman, Ned Flanders, Selma si sposano in chiesa, ed è ora di chiusura definitiva anche per la taverna di Bo. Tutti stanno lasciando tutto e stanno cambiando le loro vite. Bart, di fronte a tutti questi cambiamenti, inizia a sentirsi a disagio e, arrivato a casa, trova nuovi cambiamenti, sia con Homer e Marge che con Maggie. Bart non ce la fa proprio con questi cambiamenti, quindi va dall'unica persona che, secondo lui, non cambierà mai. Ma niente da fare, è l'ultimo episodio anche per il Crusty Show. Tra l'altro con l'intero cast, compreso Telespalla Bob, con tanto di manette. E poi, in sequenza, per omaggiare un po' la serie, abbiamo diversi tormentoni dei personaggi. Con conseguente best-off del Crusty Show per non farsi mancare nulla, daje. Bart, ormai disperato, cerca di far tornare tutto alla normalità e si abbassa i pantaloni davanti al pubblico, mostrando le ciapette. Ma viene arrestato. In cella, Bart parla con Lisa di questi strani cambiamenti che stanno avvenendo, e Lisa dice di star notando effettivamente che le storie si stanno concludendo per il meglio. Neanche il tempo di spiegare che Lisa estrae un attestato di entrata in una prestigiosa scuola, quindi è costretta ad allontanarsi dalla famiglia. Wey Simpson, ne rompe il commissario Winchester. E tanto per cambiare, rivela Bart che si unisce ai Chicago PD. Ecco, basta. I Simpson tornano quindi tranquillamente a casa. Bart si accorge che sta davvero per finire tutto. E arrivati a casa, il ragazzo viene accolto dalla maggior parte dei personaggi della serie animata, anche quelli morti o non realmente esistenti, per la sua festa di compleanno. Bart Simpson, dopo 35 anni di serie, compie finalmente 11 anni. Quindi uno dei più grandi cambiamenti. Quell'11 sulla torta lo terrorizza e fa una sfuretta davanti a tutti, riferendosi ad Homer non come un buon padre, bensì come Homer Simpson, e quindi non può essere un modello per Bart. Questo fa scattare la voglia ad Homer di strangolarlo. E tutto torna per la normalità. Pochi invitati stretti e nessuno dei cambiamenti visti finora. Comprese le candeline sulla torta che non rappresentano più un 11, ma un 10, così come è sempre stato. Beh, effettivamente non vi ho raccontato tutta la storia. Però non vi ho neanche mentito, questo è davvero l'ultimo episodio dei Simpson. Ma è anche il primo episodio della 36esima stagione. E infatti in realtà l'episodio, il compleanno di Bart, inizia con un festival dedicato proprio all'ultimo episodio dei Simpson. Tra gli ospiti ci sono anche personaggi famosi che conosciamo tutti e che sono già apparsi come cameo nella serie. Billie Eilish, Mick Jagger, Gordon Ramsay, Weirdal, Tom Hanks, Kevin Smith, Seth Rogen, Lady Gaga, Mr. T, Joel McHale e tantissimi altri. Il festival è presentato da Conan O'Brien, che era anche uno degli ex sceneggiatori della serie. Infatti, dopo aver spiegato a noi spettatori che andremo a vedere ora l'ultimo episodio ufficiale dei Simpson, scherza sul fatto che è tornato solo per recuperare un maglione che aveva lasciato nel suo studio negli anni 90. Viene detto tra l'altro da O'Brien che Fox negli anni ha cercato di far concludere la serie svariate volte, e vediamo anche diversi momenti indicati come originarie conclusioni. Ovviamente non era così. La cosa davvero interessante è che a un certo punto spunta sul palco l'intelligenza artificiale, che è in realtà l'unica responsabile della scrittura dell'ultimo episodio dei Simpson. Sono stati infatti inseriti all'interno dei dati di tutte le stagioni della serie e di ogni singolo finale di serie di ogni serie della storia, appunto per poter scrivere il miglior finale esistente. Ed è esattamente questo il motivo per cui l'ultimo episodio, il compleanno di Bart, è così pieno di cliché come la scena del mi mancherà questo posto spegnendo la luce e chiudendo la porta. Infatti per esempio mi ha ricordato tantissimo Willy il principe di Bel Air o Friends. Ma non sto qua a dirvi quante altre serie hanno al loro interno, nel loro finale, questo tipo di scena. Non parliamo poi delle basi buttate giù per possibili spin-off come quello su Skinner e Willy, che ovviamente non avverrà mai nella realtà. Quando il finto finale finisce, Bart e Homer resettano la serie. L'intelligenza artificiale che ha scritto in modo così scontato l'episodio, alla domanda di Conan O'Brien su quanti altri episodi arriveranno nella serie, esplode. Eto Manx è un po' arrabbiato del fatto che questo in realtà non è il finale dei Simpsons, bensì la premiere della 36esima stagione. L'episodio inoltre finisce con delle citazioni ad alcuni dei più famosi finali di serie, come Breaking Bad, Game of Thrones, Succession, e vi lascio riconoscere i restanti. Traendo le mie personali conclusioni ho apprezzato veramente tanto questo episodio, non solo perché si prende gioco dei finali delle serie e dei cliché, ma perché gioca tantissimo sull'intelligenza artificiale all'interno dello show business, in questo caso nel campo sceneggiatura, sottolineando che l'intelligenza artificiale non può essere usata da sola e unicamente per la scrittura, ma deve esserci comunque l'aiuto di una mente umana. Almeno per ora, non sappiamo cosa succederà nei prossimi anni, magari l'intelligenza artificiale arriverà ad eguagliare completamente la fantasia e la creatività umana. Speriamo di no, però fortunatamente Hollywood sta già prendendo le precauzioni in diversi campi. Tra l'altro una cosa interessante, il secondo episodio della 36esima stagione, che quindi continuerà, sarà la parodia di un'altra serie famosa, The White Lotus, e l'episodio sarà intitolato ovviamente The Yellow Lotus. Prima di chiudere ho avuto un po' una curiosità malsane, ho chiesto a Chagipity di scrivere il suo finale dei Simpsons. Leggiamo insieme lo spettacolare finale ideato dall'intelligenza artificiale. Il futuro è giallo, questo è il titolo che Chagipity ha deciso per l'ultimo episodio dei Simpsons. Voglio leggerla un po' come la storia della buonanotte, vediamo cosa esce. Un giorno Homer scopre di aver perso il lavoro alla centrale nucleare. Inizialmente frustrato, si rende conto che la vera felicità non dipende dal lavoro, ma dalla famiglia. Toretto potrebbe essere d'accordo. Marge decide di iscriversi a un corso di cucina per esplorare la sua passione, portando gioia in casa. Bart, ispirato dalla determinazione della madre, inizia un lavoro part-time, mentre Lisa avvia un progetto ecologico a scuola, coinvolgendo compagni e amici in attività di pulizia. Maggie, invece, crea giochi divertenti con materiali riciclati, unendo la famiglia in momenti di gioia. Con il passare delle settimane, i Simpsons riscoprono la felicità nelle piccole cose, e alla fine organizzano una festa nel giardino con amici di Springfield. Homer alza un bicchiere e brinda. Ecco a tutte le piccole cose che ci rendono felici. Non so fare la voce di Homer Simpson. E infine la telecamera si allontana mostrando la famiglia unita e felice, dimostrando che l'amore e il legame familiare sono le vere fonti di felicità. Oh, che schifo! Ecco la prova che l'intelligenza artificiale non può assolutamente scrivere un episodio da sola. Adesso voglio fare una piccola parte seria che vedete anche nel titolo del video, penso di averlo scritto anche lì, perché è veramente importante questa informazione. Mi spiace assolutamente di aver fatto un video troll, possiamo definirlo così un video clickbait, mi spiace veramente tanto, però comunque l'ultimo episodio dei Simpsons è uscito, quindi non potete dire nulla, non potete lamentarvi al 100%, però ho colto la palla al balzo, mi è sembrata simpatica la cosa di informarvi che questo potrebbe essere l'ultimo video del canale. Sapete, ultimo episodio dei Simpsons, ultimo video del canale. Perché al momento sto avendo delle opportunità che non posso assolutamente rifiutare, vorrei provare nuove cose, vorrei iniziare nuovi progetti, probabilmente rimarrò anche su altri social, Instagram, TikTok, Letterboxd, non lo lascerò mai, state tranquilli, quindi lì mi trovate sempre. Credo che siamo arrivati un po' alla fine di questo canale, almeno per ora, non nego che magari in futuro si ritornerà, però è probabile veramente che questo sia l'ultimo video del pensiero di Ambrio, una volta adesso mi chiamo semplicemente con mio nome e cognome Andrea Iacono, evviva! Sì, dopo sei, sette lunghi, sei o sette non ricordo, sei o sette lunghi anni, questo progetto attualmente si mette in pausa a tempo indeterminato. Ringrazio tantissimo tutti voi che mi avete seguito in questi anni, veramente tantissimo mi sono divertito, a volte mi sono anche non divertito ma dipende da altre persone, però ho avuto modo di conoscere tanta gente fantastica e per questo sono veramente contento e basta, credo che possiamo chiudere qui, magari chiudo come faccio di solito le outro nei video. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude, definitivamente questa volta. Ciao ragazzi! Mi mancherà questo posto. No, non me ne vado, sono un idiota e anche io volevo provare questa sensazione della porta e della luce. Effettivamente dà un po' i brividini, posso assicurarvelo. Comunque sì, ci saranno meno video perché ho iniziato l'accademia, secondo anno, però... non chiudo. Nah. Thank goodness! I had a huge scare! See you next, Andri!